Un piccolo Abruzzo ha deciso di andar via dall'Italia. All'estero sono quasi 200.000 gli abruzzesi, il 15% della popolazione regionale e il 3,5% di tutti gli italiani che vivono al di là dei confini nazionali. Circa un terzo degli abruzzesi all'estero è emigrato dalla provincia di Chieti. E quanto emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2021 della fondazione Migrantes, che si basa sui dati dell'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. I numeri quindi sono parziali, con ogni probabilità c'è una fetta di abruzzesi immigranti che non essendo iscritti all'anagrafe non gonfiano le statistiche. Tra le mete preferite dove costruirsi una vita, gli abruzzesi mettono l'Argentina al primo posto. Un migrante su cinque sceglie di trasferirsi nel paese sudamericano. Sono circa 40.000 gli abruzzesi in Argentina. Se si radunassero tutti, formerebbero una città delle dimensioni di Vasto. Nella lista seguono la Svizzera, anche per una questione di prossimità, e il Belgio. E se la maggior parte degli abruzzesi all'estero proviene dalla provincia teatina, restringendo l'analisi ai soli comuni, il numero più alto è quello dei pescaresi. Sono 7.725 quelli iscritti all'anagrafe. Seguono Vasto e Lanciano, subito dopo L'Aquila e Teramo, mentre Chieti è all'ottavo posto. Se invece paragoniamo il numero dei residenti all'estero, con quello di coloro che ancora calpestano la terra natia, allora il capoluogo dell'emigrazione abruzzese è Roio del Sangro. A fronte di una popolazione attuale di 95 persone nel comune in provincia di Chieti, i roiesi iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero sono 246, quasi il 260% di coloro che sono rimasti. A seguire, nella classifica dell'incidenza, altri due comuni teatini, Borrello e Rosello. E a livello nazionale, l'Istat evidenzia come la pandemia, con le conseguenti restrizioni delle libertà di movimento volte a contenere il virus, non ha fermato i flussi migratori. Secondo l'Istituto di Statistica, nel 2020 sono state 160.000 le persone che hanno abbandonato l'Italia, il 10,9% in meno rispetto al 2019. Il numero però riguarda anche l'emigrazione di residenti non italiani, diminuita di circa un terzo. Se invece consideriamo i soli cittadini italiani, nel 2020 sono stati oltre 120.000 a coloro che hanno spostato all'estero la residenza, un calo rispetto al 2019 di meno di un punto percentuale. Insomma, le limitazioni hanno bloccato qui soprattutto gli stranieri. Nel 2020 il flusso più consistente di cancellazioni per trasferimento della residenza all'estero si è registrato nella Nord Italia.